Domani la Covizoc decide sul ricorso presentato ieri sera dalla San Mettese Calcio. La tefoseria che ne pensa? Che sensazioni hai? La sensazione sembra brutta, ma io sinceramente sono ottimista, anche perché in sede sembra che stanno tutti abbastanza tranquilli, quindi ci fidiamo del Presidente e dei loro collaboratori. Sono molto, diciamo, io sono fiducioso. Incrociamo le dita, speriamo bene, credo, spero, ma credo che non ci saranno problemi, altrimenti tutto quello fatto fino ad ora non avrebbe senso, tutti i soldi investiti per l'acquisto della San Mettese e per la regolarizzazione non avrebbero avuto senso, quindi io sono fiducioso. Fiducia quindi massima, nonostante che gli spifferi che arrivano non siano dei più positivi? Ma io sono ottimista, preferisco parlare quando ci sono i fatti, quindi fino a che non c'è la dimostrazione contraria io continuo ad essere ottimista. Io spero, spero che vada tutto bene, però un po' di timori, sinceramente, leggendo un po' le informazioni eccetera, ce li ho. Speriamo bene. Anche perché in questi giorni siamo stati un po' trasportati dall'evento Italia, quindi la San Mettese diciamo ci abbiamo pensato un po' di meno, però adesso l'Italia è vinto, speriamo che vinca pure la Samba. Sarebbe una beffa però, non iscriversi in Serie C, tutto quello che è stato tirato fuori da Renzi e dei soci per rilevare la Samba al titolo sportivo. Sarebbe una mazzata, una mazzata forte, 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 no una beffa, una mazzata, speriamo bene. Essere arrivati a questo punto, insomma, non ci si doveva arrivare, è questo il discorso. Quando è lì ormai hai fatto 30, fa 31. Ma c'è fiducia? Io ce l'ho sempre. A questo punto, dico io, ha fatto tutto quello che ha fatto e bisogna dirgli grazie. Speriamo che almeno la federazione tenga conto di questa nuova situazione, ma vediamo. Anche perché quello che è stato spesso è già stato tanto? Eh sì, eh, poi sta facendo la squadra, tutto quanto, insomma sarebbe un peccato di Dio. Ricominciata la Serie C, dai, su. Io sono fiducioso e vivo a Samba, non c'è niente da fare.